Paolino, sono il salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan e le fan che ti seguono Saluti a tutti e tutti E del commissario Ricciardi che va in onda il lunedì e stasera lunedì Esatto, questa sera seconda puntata E a teatro, a Latina, il 30 maggio Teatro D'Annunzio e ho la manina per te per salutare tutti i fan Non svegliate lo spettatore Ecco, ciao, grazie, ciao